Ciao a tutti da Green Food for Gaia! Oggi andiamo a preparare il condimento per una pizza. Questi sono gli ingredienti. Prendiamo le cipolle, le tagliamo eliminando la parte esterna e le tagliamo a fettine non troppo sottili. Queste cipolle le andiamo a soffriggere insieme a tutte le nostre erbe aromatiche e a un pizzico di sale. Una volta soffritte, aggiungiamo le nostre patate. Io le ho lessate, ho aggiunto un pizzico di sale e tagliate a fettine. Mescoliamo bene e andiamo a condire la nostra pizza. Spargiamo bene gli ingredienti e andiamo a cuocere in forno. Ovviamente nella parte più bassa del forno al massimo della temperatura. Il tempo è più o meno 15 minuti, però regolatevi voi perché ogni forno è diverso. Spero che questa pizza vi piaccia e alla prossima!